Doppio appuntamento con la cultura nella biblioteca erica di piazza Carlo Santini a Capaccio Pestum nell'ambito dell'evento Viaggiatori di Parole. Infatti in quel luogo è stata inaugurata la mostra Dorico di Mare 2013-2021 e contestualmente è stata firmata la convenzione tra il comune di Capaccio Pestum e la fondazione Bellonci. La mostra Dorico di Mare diventa Dorico di Mare 2013-2021 che raccoglie opere di Sergio Vecchio e di altri 31 artisti e ora collocata all'interno della biblioteca comunale. Insieme alla pubblicazione dello speciale monografico Sergio Vecchio, viaggiatore senza tempo, vuole essere un omaggio della città dei templi alla memoria del poliedrico artista di Capaccio Pestum. L'evento introdotto da Anna Maria Vitale, responsabile del progetto biblioteca digitale e dai saluti di Maria Antonietta Di Filippo, vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Capaccio Pestum, ha registrato gli interventi di Alfonso Andrea, consigliere di amministrazione del parco archeologico di Pestum e Velia e di Bruna Alfieri, moglie di Sergio Vecchio. Nel corso della manifestazione è stata firmata la convenzione tra il comune di Capaccio Pestum e la fondazione Bellonci con la convenzione sottoscritta dal sindaco Franco Alfieri e dal presidente della fondazione Bellonci Giovanni Solimine. Si è avviato un percorso triennale di collaborazione che fa della biblioteca erica e della città di Capaccio Pestum uno dei luoghi del premio strega per i prossimi anni. Vedere in questi giorni diversi ragazzi studiare nella nostra biblioteca e ricevere l'apprezzamento di quanti stasera hanno partecipato all'evento è per noi una grande soddisfazione, ha affermato il sindaco Franco Alfieri. Soprattutto siamo fieri di aver sottoscritto proprio nella biblioteca comunale da oggi sede anche della mostra Dorico di Mare 2013-2021 una convenzione con la fondazione Bellonci per fare della nostra città un presidio del premio strega. È il segno di come arte contemporanea e letteratura si fondano a dimostrazione del legame di Capaccio Pestum con ogni forma di espressione artistica. Apprezzo molto la coerenza dell'amministrazione comunale di Capaccio Pestum ha dichiarato il presidente Solimine che si muove secondo una strategia diversificata rilanciando i servizi di biblioteca sia nella forma tradizionale che digitale promuovendo l'incontro dei cittadini con gli autori finalisti del premio strega organizzando la mostra delle opere di Sergio Vecchio e altri artisti solo una politica culturale di così ampio respiro può produrre sul territorio una crescita culturale significativa.